Direttore! Sì, che c'è Napparatoni? Napparatoni, signore! Che cazzo me ne frega di come ti chiami?! Mickey Ballorinox sono fuori! Scagnetti è morto! E poi, signore, siamo... in diretto in tv! Cosa?! Siamo in diretto in tv?! Gesù Cristo in cariola che gli è la merdosa! Ma perché st ragazzo sta capitando a me?!